Vediamo cosa c'è di nuovo nell'attestazione sugli obblighi di trasparenza del 2022. Come sappiamo questa attestazione prende le mosse dalla delibera 201 del 13 aprile del 2022 e l'autorità quest'anno ha disposto che la verifica deve essere effettuata con riferimento al 31 maggio 2022. Il contenuto della deliberazione è questo, conosciamo già più o meno come l'altro anno. Ripeto, soltanto per chi non ricordasse, che l'attestazione deve essere completa di due documenti, della griglia di rilevazione, che fa parte dell'attestazione, e della scheda di sintesi. Quindi documenti da predisporre per poter poi essere in regola, sono due, la griglia, che è quel foglio di calcolo, chiamato anche foglio Excel, infatti è in Excel, e poi la scheda di sintesi, che è un documento in Word. Devono essere pubblicate, l'attestazione completa di queste due, nella sezione amministrazione trasparente, entro il 30 giugno 2022. Quindi l'attestazione completa di questi due documenti deve essere pubblicata entro il 30 giugno 2022. Quindi si fa riferimento al 31 maggio, come ogni anno c'è questo mese di differenza, quindi il 31 maggio è la data di riferimento, ma si può pubblicare un mese dopo, entro il 31 giugno 2022. E comprende, ripeto, l'attestazione completa della griglia di rilevazione e della scheda di sintesi. Bene, è importante il fatto che la sola griglia deve essere trasmessa all'ANAC, quindi la pubblicazione riguarda tutti quei documenti, la trasmissione riguarda soltanto la griglia. Quindi, questi sono gli obblighi. E anche quest'anno, come l'altro anno, nel documento dovrà essere attestato che non ci sono filtri che impediscano l'indicizzazione, ma c'era già anche l'altro anno, non è un fatto nuovo. Proseguiamo, gli obblighi quest'anno sono elencati, ma tanto poi li troviamo in dettaglio. Un aspetto importante di quest'anno è questa rendicontazione che riguarda la raccolta dei fondi a sostegno del contrasto all'emergenza epidemiologica del Covid-19. È una novità perché non è un obbligo che rientra nella delibera 1310, in quanto all'epoca non c'era ancora questa triste pandemia. E la novità quindi qual è? Che quest'anno l'autorità prevede una riga nella quale in maniera specifica si chiede che le amministrazioni rendano conto delle liberalità utilizzate per il contrasto all'emergenza epidemiologica. Più avanti lo vediamo, anzi vediamolo subito. Di cosa si tratta? Dell'articolo 99,5 del Decreto Legge numero 18, quindi questo è il redempimento. Ecco il 99, il Decreto Legge numero 18. Si può notare, ma non lo faremo adesso, che qui quest'articolo in verità tratta del Dipartimento della Protezione Civile, non cita gli enti locali, parla semmai nel comma 3 di forniture e servizi acquisiti, con le liberalità e teniamo un attimo indietro, chi fa riferimento fondamentalmente a conti correnti bancari dedicati a donazioni liberali. Quindi l'oggetto di attenzione dell'autorità sono le donazioni liberali. L'articolo 99 fa riferimento alle somme destinate all'acquisto di forniture e servizi, il comma 4 parla di intorno, il comma 5, che è quello che può riguardarci, parla di erogazioni liberali, di cui al presente articolo ciascuna pubblica amministrazione beneficiaria attua apposita rendicontazione separata. Quindi la questione oggetto di attenzione è questa rendicontazione separata, richiesta ad ogni pubblica amministrazione, anche se l'articolo parla d'altro, per la quale deve essere aperto un conto corrente dedicato, infatti questo viene richiesto anche nella scheda, e quindi deve essere rendicontato alla parte di entrate di spesa che è stata dedicata a questa offizionalità. L'argomento viene fatto richiamando una delibera del mese di luglio, 29 luglio, con la quale l'ANAC nell'esplicitare l'obbligo di pubblicazione, eccetera, integrato peraltro da una delibera del 7 ottobre, individua una scheda tipo, e questa è la scheda tipo. Quindi, ritornando alla richiesta nostra, più avanti lo vedremo, quello che è richiesto agli enti è di pubblicare nella parte che riguarda l'emergenza questa scheda tipo completa di elementi, che sono appunto il codice fiscale, il raccolto dei fondi, il conto corrente utilizzato, perché è obbligatorio che sia un conto corrente destinato a questo scopo, le uscite e le entrate, non so perché sono investite, vabbè non importa, le uscite e le entrate, mai vengono fatte le cose come giusto che sia, per rendere facili. Quindi attenzione, non sono entrate e uscite, ma sono uscite e entrate. Va bene, la griglia sappiamo già come essere compilata, è allo stesso modo, questa è la griglia, come sappiamo nella prima colonna si mette 0,1,2 a seconda del fatto, 2 è il dato pubblicato nel posto giusto, in maniera completo, 1 significa che è pubblicato in una sezione diversa e così via. Gli altri 4 rimangono ancora, secondo quella logica spannometrica, per cui si mette una percentuale, la completezza in percentuale, in percentuale rispetto agli uffici, in percentuale se sono aggiornati, in percentuale se sono di formato aperto. Attenzione perché quest'anno mettere un punteggio qui non è esattamente irrilevante, perché se si mette un punteggio inferiore a 3, con riferimento alla completezza in particolar modo, poi si è tenuti durante l'anno a monitorare. Allora mi sembra opportuno evidenziare che il 3, la completezza del contenuto è il punteggio che si attribuisce quando le informazioni, vedete, sono pubblicate per due terzi, quindi 67% è due terzi e un po'. Quindi se due terzi delle loro informazioni sono complete, potete mettere 3. Attenzione perché alcuno di noi, per essere fiscale, se capita che un'informazione non è completa, non metta il 3 perché pensa che il 3 è il massimo e quindi merita il 2. Il 2 invece vuol dire che le informazioni non sono complete al di sotto dei due terzi. Quindi, ripeto, la completezza per l'autorità non significa che tutto è regolarmente completo, ma che almeno due terzi delle informazioni sono complete. Ovviamente, vado avanti, ma velocemente, abbiamo già detto quindi dove si pubblicano, non l'abbiamo detto, diciamo adesso, l'attestazione di OIV è pubblicata nella sezione amministrazione trasparente, sotto sezione di OIV livello controlli e rilievi dell'amministrazione. Entro il 30 giugno, abbiamo detto prima, va bene. Ecco l'aspetto di novità. La novità qual è? Dopo la pubblicazione, e l'invio all'ANAC, se si riscontrano delle curiosità, devono essere segnalate dagli OIV entro il 31 ottobre 2022. Quindi, devono essere segnalate le misure. Quindi l'OIV, se rileva che ci sono dei problemi, vedete, se ha messo nella completezza del contenuto un valore inferiore a 3, ecco, durante l'anno deve monitorare e entro il 31 ottobre, deve inviare all'autorità quali iniziative sono state assunte, vengono chiamate misure di trasparenza. entro il 31 ottobre, peraltro, deve essere comunicata, anche qui, vedete, c'è una doppia data, che il 31 ottobre è la data entro cui deve essere superata e la comunicazione avverrà poi nel mese di novembre, entro il 10 novembre. Quindi, lo ripeto, se non sono stato chiaro, si mette il punteggio nella griglia. Se in questa colonna, completezza del contenuto, si mette un punteggio inferiore a 3, gli OIV hanno il compito di monitorare quali iniziative sono state assunte per rendicontarle all'autorità entro il 31-12, o meglio, con riferimento al 31 ottobre, scusate, non 12, 31 ottobre, ma entro il 10 novembre. Come? Con un modellino che sarà comunicato più avanti dall'autorità. Vediamo il vodo alla griglia. Il primo aspetto riguarda i consulenti e i collaboratori. Sono questioni già note, gli estremi di atto di conferimento dei consulenti e collaboratori. L'abbiamo già fatto esattamente all'altro anno. I curriculum, gli incarichi, i compensi, le tabelle. Non dimentichiamo che l'aspetto, siccome si tratta qui di pubblicare una tabella che è già stata comunicata per la PA, noi siamo obbligati a comunicare i dati su per la PA, è sufficiente che un ente metta un link a questa tabella anziché riportarla due volte. Questa tabella contiene tutto ciò che viene richiesto, anche troppo, non importa, diventa codice fiscale che si poteva evitare. Contiene tutto, quindi noi siamo obbligati a pubblicare tutto ciò che c'è in questa tabella che è su per la PA. Allora in questo caso conviene che l'ente direttamente linki a quell'aspetto. Quali sono i dati da pubblicare? È una domanda che ricorre costantemente. Chi sono questi consulenti e collaboratori? L'autorità ha spiegato più volte che sono tutti quegli incarichi di consulenza e collaborazione che non siano appalti di servizio. Ma c'è una domanda insidiosa a cui dobbiamo ancora rispondere. Nell'elenco delle informazioni richieste ne risulta alcune sono facili, gli estremi degli atti, i coricolumite, i dati, l'autorogimento degli incarichi, ma c'è una richiesta che risale all'articolo 53,14 del testo unico pubblico impiego attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza delle situazioni anche potenziali di conflitto di interessi. Che vuol dire questa attestazione? È contenuta qui, 53,14 La domanda è ma dobbiamo attestare che la persona incaricata ha dichiarato che non sussistono quelle situazioni o invece dobbiamo attestare di avere verificato ciò che ha prodotto la persona interessata? Vediamo cosa fa l'ANAC. L'ANAC nel suo sito nell'elenco delle attestazioni informa che con riferimento alle dichiarazioni rese dall'architetto dal dottor Tizio si attesta in base a quanto contenuto nella dichiarazione di qui sopra che non risultano alla data odierna situazioni attuali o potenziali di conflitti di interessi. Quindi questo che è dell'autorità? Allora non è richiesto che facciamo la verifica sulla dichiarazione che ci hanno fornito ma che attestiamo di aver acquisito una dichiarazione a cui si evince che non vi sono conflitti di interessi. Bene, vado avanti ancora. Gli enti controllati si articolano in tre gruppi di enti pubblici vigilati società partecipate enti di diritto privato controllati la norma di riferimento è l'articolo 22 come sappiamo qui nella documentazione legata a questo filmato trovate tutte le slide che adesso sto pubblicando attenzione perché la mancata o incompleta pubblicazione dei dati impedisce l'erogazione di somme a qualsiasi titolo a questi enti vigilati controllati o in partecipazione quindi è fondamentale ed è inutile dire anzi no è utile ripeterlo i dati che rimanano pubblicati con riferimento agli ultimi cinque anni quali sono le informazioni che sono richieste eccole per tutti quindi in blocchi diversi primo l'elenco degli enti alcuni enti non mettono l'elenco degli enti pubblici ma direttamente vanno nel dettaglio è importante l'elenco degli enti poi chiaramente la radone sociale la partecipazione dell'amministrazione la raddora dell'impegno l'onere complessivo sappiamo già gli aspetti insidiosi sono questi la dichiarazione sulla insussistenza delle cause di confedibilità in questo caso non si richiede che l'ente pubblichi la dichiarazione ma che l'ente faccia riferimento al link ecco che è pubblicato nel sito dell'ente stesso quindi l'ente controllato vigilato pubblica sul suo sito questa dichiarazione noi linkiamo quella dichiarazione altrettanto sulla incompatibilità al conferimento dell'incarico e poi vabbè il riferimento il collegamento generico al sito di questo di questo ente andiamo ancora avanti pagamenti dell'amministrazione è stato già oggetto di pubblicazione in passato non c'è più nulla di particolare lo facciamo già quindi i dati sui pagamenti in tabelle cosa vuol dire questo è il comma 4 bis del 33 questo comma fa riferimento all'elenco dei mandati quindi noi siamo tenuti a pubblicare con cadenza trimestrale nessuna noma lo prescrive ma ormai la prassi in basalina guida dell'Anna che è questo con cadenza trimestrale gli ultimi pagamenti effettuati dall'amministrazione con riferimento gli ultimi tre mesi per esempio l'elenco dei mandati attenzione perché i mandati devono essere pubblicati con riferimento alla tipologia all'ambito e i beneficiari nomi e cognomi che devono essere però espunti quando come dice l'articolo 26 fanno riferimento a stato di salute o disagio economico sociale se non si rispetta questa quest'obbligo dell'articolo 4 bis è una sanzione che è cospicoso ma è corposa la mancata pubblicazione dei dati vedete del 4 bis comporta l'applicazione di una sanzione per esempio non si sanziona il mancato rispetto della trasparenza se non con provvedimenti d'ordine ma in questo caso invece c'è proprio una sanzione esplicita se non si pubblicano gli elenchi dei mandati passiamo alla sezione che riguarda la pianificazione e il governo del territorio l'articolo che prevede gli obbi di pubblicazione è l'articolo 39 del 33 come si vede l'articolo al comma 1 è stato rimaneggiato nel 2016 quindi la lettera B è stata abrogata cosa rimane vivo in questo articolo ed è oggetto di pubblicazione gli atti di governo del territorio per i quali tra gli altri i piani territoriali di coordinamento paesistici strumenti urbanistici generali e di attuazione non chiedono le varianti quindi i piani ecco qua di coordinamento generali e le varianti al comma 1 lettera A nel comma 2 due tipi di provvedimento ciascun ecco la documentazione su ogni procedimento di presentazione e approvazione e quella congiunzione fa comprendere a mio giudizio che si tratta di individuare la pubblicazione di ciò che è stato presentato e anche approvato infatti dice la norma delle proposte di trasformazione urbanistica quindi sono due tipologie di procedimento delle proposte di trasformazione urbanistica sia private che pubbliche invariante allo strumento urbanistico generale comunque sia denominato nonché delle proposte di trasformazione urbanistica di inizieria privata o pubblica in attuazione dello strumento urbanistico ma che comportino pregnalità edificatorie quindi quali sono i provvedimenti che devono essere pubblicati nella lettera A quindi gli atti di programmazione generale e le varianti comma 1 lettera A nel comma 2 la documentazione quindi non si tratta di un atto ma della documentazione su ogni procedimento di presentazione e approvazione di che cosa? Delle proposte di trasformazione urbanistica sia pubblica che private in variante nonché delle proposte di trasformazione ancora una volta pubblico-private che però comportino premialità edificatorie sull'argomento della lettera B che è stata abrogata scusate interviene anche l'autorità che come sappiamo in questione di guida afferma che non sono più oggetto di pubblicazione obbligatoria gli schemi di provvedimento e di libere di adozione approvazione e i relativi allegati tecnici l'autorità ha già chiarito che tra gli atti di governo del territorio che le amministrazioni sono tenute a pubblicare ai senti del 39 rientrano anche il documento programmatico preliminare contenente gli obiettivi e i criteri per la redazione del piano urbanistico generale nonché i piani delle attività estrattive che riguardano appunto i piani cavi e torbiere è importante il 39 comma 3 eccolo qui la pubblicità degli atti è condizione per acquisizione dell'efficacia degli atti stessi l'autorità infatti afferma che è condizione per l'acquisizione dell'efficacia degli atti il fatto che vengono pubblicati in questa specifica sezione della trasparenza ecco qua i due gruppi di richieste passiamo agli interventi straordinari di emergenza la norma che prevede la pubblicazione di questi atti è l'articolo 42 del decreto 33 che tratta di interventi di tipo straordinario di emergenza ecco provvedimenti contingibili urgenti in generale provvedimenti di carattere straordinario di emergenza o di altre emergenze comprese le amministrazioni commissariali straordinarie eccetera eccetera la norma tratta anche di emergenze che comportano deroghe alle registrazioni vigente nel caso di specie l'autorità richiede invece proprio quanto è previsto l'abbiamo già visto all'articolo 99 comma 5 del decreto 34 cioè gli interventi finalizzati alla gestione alla spesa di queste donazioni liberali strettamente collegate però all'emergenza epidemiologica del covid 2019 l'articolo che può riguardare gli enti locali o tutti gli enti è fondamentalmente il comma il comma 5 dove è previsto che per le erogazioni liberali di questo articolo se finalizzate appunto l'emergenza covid ciascuna pubblica amministrazione deve attuare una rendicontazione separata deve avere già individuato un conto corrente dedicato a cui fare confluire queste somme e deve pubblicare eccolo qui deve essere pubblicata questa rendicontazione sul proprio sito internet la pubblicazione è governata diciamo da questa deliberazione che abbiamo visto prima il 29 luglio e in soldoni si riduce a pubblicare questo foglio che vediamo adesso ecco questo foglio contiene quindi il nome dell'ente codice fiscale raccolta dei fondi il conto corrente utilizzato le uscite e le entrate chissà perché invertite ma pazienza poi è prevista questa relazione illustrativa della raccolta fondi ma in verità c'è scritto indicare le spese sostenute quindi non è richiesto di relazionare sulla raccolta dei fondi ma su come le spese sono state sostenute le spese sono state poi utilizzate questi fondi quindi qui fondamentalmente basterà individuare le modalità con cui le spese sono state poi erogate in base a quali principi quali orientamenti quali scelte ha fatto l'amministrazione per poter poi investire utilizzare queste somme ricevute ripeto come vediamo se trovo la norma come atti ecco qua come donazioni liberali per finire abbiamo il riquadro che ormai è stranoto il piano anticorruzione responsabile della prevenzione in alcuni comuni visto che non c'è in alcuni enti ci deve essere una sezione dove ci ha messo esattamente il nome del responsabile dell'anticorruzione la riga che richiama i regolamenti o la prevenzione della repressione della corruzione e della legalità in verità laddove adottati infatti si dice non c'è una norma che prescriva che si adotti uno dei regolamenti specifici però se ci sono si possono individuare lì andiamo più avanti relazione del responsabile anticorruzione questo è previsto articolo 1,14 come sappiamo ed è importante verificare le ultime 5 gli ultimi 5 anni e per finire abbiamo due adempimenti che sono interessanti un adempimento che riguarda i provvedimenti adottati dall'ANAC ex articolo 1,3 della 190 quali sono questi provvedimenti? sono quelli che riguardano i famosi provvedimenti di ordine cioè se l'ANAC ha inviato all'ente dei provvedimenti d'ordine con cui ha ordinato l'adozione di atti per esempio i più diffusi sono i provvedimenti che riguardano la trasparenza l'ANAC utilizza provvedimenti d'ordine quando deve imporre ad un'amministrazione di pubblicare dei dati che ha omesso di pubblicare non sono sanzioni sono provvedimenti d'ordine e l'altro quindi questi vanno pubblicati e l'altro tipo di atti da pubblicare invece riguardano la inconferibilità siamo nel 1939 2013 e come sappiamo è previsto che se un organismo attribuisce un incarico inconferibile a qualcuno questo organismo anzi i componenti degli organi ecco così reca la norma che hanno conferito questi incarichi nulli in quanto inconferibili quindi sono nulli sono responsabili questi componenti e le conseguenze che sono adottate e quindi non possono per tre mesi conferire incarichi di loro competenze ecco allora da pubblicare sono in queste due righe i provvedimenti d'ordine di ANAC e poi gli atti di accertamento delle violazioni limitatamente alla inconferibilità ex articolo 18,5 degli L39 del 2013 13